Mamma, quando torna la luce? Sono sempre di più in Grecia le famiglie che per la crisi non riescono a pagare la bolletta. Giorgos e Eugenia da due anni vivono coi figli a lume di candela. Secondo una stima sono in netta crescita le forniture sospese per morosità ed essere costretti a una vita al buio è diventato un problema sociale. La situazione è davvero difficile per mia moglie e i bambini. Cerchiamo di fare le cose necessarie come i compiti di scuola finché c'è la luce del sole. Nell'Europa del ventunesimo secolo vivere senza elettricità non è un'opzione da snob. Molte, inaspettate, sono le conseguenze. Cucino con il gas da campeggio e senza il frigorifero per verdure e alimenti depedibili c'è il balcone. E meno male che fa freddo. Sfidando la legge, gruppi di volontari girano per le case e le riconnettono alla rete elettrica. Per loro la corrente è un bene necessario senza il quale non si può vivere. Dunque è fuori discussione accettare di restarne esclusi. Gli attivisti hanno riportato la luce illegalmente in molte case che avevano subito un distacco. Voglio ringraziare questi volontari per aver riportato l'elettricità in casa. Ora posso occuparmi dei figli, fargli fare i compiti, permettergli di lavarsi. I volontari presentano se stessi come un movimento di sfida politica e assicurano di ricollegare alla rete di distribuzione ogni giorno almeno una quindicina di case rimaste senza corrente. Sanno di compiere un gesto fuori dalla legge, ma sono convinti che aiutare chi ha bisogno sia una priorità. Secondo l'operatore elettrico greco, almeno 350.000 contratti sono stati sospesi per morosità nel 2013. In molti casi si è riallacciata la connessione, anche illegalmente, in altri si è rimasti al buio. Apo ten Athena, Gato Euronews, Michalis Arrabantzoglou.